Ciao a tutti, mi chiamo Giuseppe e sono un consulente finanziario e assicurativo. Ci tengo particolarmente a fare questa video recensione in favore di Nello perché ho fatto il corso in aula con lui circa tre anni fa, il corso sugli investimenti immobiliari e non vi sono pentito per niente perché Nello è davvero molto 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 bravo a spiegare in maniera semplice magari concetti che a volte possono essere anche un pochettino più complessi. Molto bello anche il modo in cui ti spiega oltre agli investimenti anche il mindset che ci vuole per lavorare appunto nel mondo degli investimenti. Una delle cose che mi ha colpito di più di Nello è stata, a parte la sua grande professionalità ma comunque l'auto umano, Nello diventa amico delle persone, amico sincero e quindi comunque rimane sempre disponibile, sempre, per qualsiasi cosa e questa è una delle cose che veramente non si trova in tutti. Quindi sono davvero davvero contento di aver conosciuto Nello dal lato professionale e dal lato umano. Infatti è nata comunque un'amicizia tant'è che l'ho coinvolto anche in vari progetti imprenditoriali sempre per quanto riguarda gli investimenti immobiliari stiamo creando appunto una piattaforma di equity crown fund immobiliare e quindi è davvero un piacere lavorare con Nello e che dire, grande Nello Ciao a tutti